Ciao, io sono David. Oggi vi parlerò della mia esperienza in quanto ex studente del corso di laurea magistrale in Music and Acoustic Engineering. In particolare, io ho seguito la track di Acustica, che è quasi prevalentemente svolta nel polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano. Innanzitutto parliamo un attimo del mio passato. Io ho una laurea triennale in Ingegneria Elettronica e un diploma di vecchio ordinamento in pianoforte classico. Questo corso di studi che ho scelto come laurea magistrale mi ha permesso di unire Ingegneria e la mia passione per la musica. Infatti, in questo corso di studi si trattano delle tematiche che non vengono trattate altrove in Italia, come Music Information Retrieval, analisi e acquisizione di segnali audio, procedure sperimentali per la caratterizzazione di strumenti musicali e fisica degli strumenti musicali, quindi come funzionano. Inoltre, vengono anche trattati dei modelli fisici innovativi e veloci. Comunque, io mi sono trovato benissimo, i professori sono molto appassionati e molto preparati e inoltre ho anche vinto una borsa di studio di 2000 euro che mi ha permesso di abbattere le spese in quanto fuorisede a Cremona. Insomma, mi sono trovato molto bene nel mio corso di laurea magistrale e una volta che l'ho completato ho l'intenzione di continuare con i miei studi. Infatti, ho mandato delle application per fare il dottorato e vedremo come va. Io vi consiglio caldamente di fare questo corso, molto interessante. Ciao!